Solo dopo che la vita li avrebbe messi duramente alla prova, quando cioè furono sbattuti fuori dall'orfanotrofio, sballottati a destra manca, umiliati e fatti a pezzi, Ramazan si sarebbe reso conto che gli anni più belli e carichi di umanità nella sua vita erano stati proprio quelli trascorsi lì dentro. In seguito avrebbero sempre rimpianto quei giorni all'orfanotrofio, la serenità che Sener il fantasma aveva portato, il conforto di sapere che avevano un letto dove dormire e del cibo i di cui nutrirsi. In cima alla lista delle cattiverie che Ali e Ramazan ricevettero nella loro vita ci fu il servizio militare. Sener il fantasma fece un gran favore a Ramazan, chiuse un occhio sul fatto che pur essendo più vecchio di Ali di un anno il ragazzo si fermasse all'orfanotrofio e pernottasse lì finché non arrivò la chiamata alle armi. Ramazan lavorava in un maglificio nei pressi dell'orfanotrofio e contava i giorni gonfio di paura. Da lì a poco avrebbe dovuto separarsi da Ali, interrompere tutti i rapporti con l'orfanotrofio e sarebbe stato costretto ad affrontare l'amara realtà. Era solo al mondo. Questo è un passo a pagina 57 di Ali e Ramazan, una storia incantevole, una storia vera che anche di questi tempi sicuramente ci può essere utile. Parla di due uomini, della loro vita, del loro amore e della loro situazioni in orfanotrofio. Si trovano chiusi come magari noi ci troviamo in questa fase storica che stiamo vivendo tutti quanti. Ecco, un invito per non perdere la speranza di essere resilienti anche nei confronti appunto di chi sta peggio di noi. Quindi io vi consiglio oggi Ali Ramazan, una scrittura pura editore.